Grande successo per la cerimonia le fonti day and night tenutasi lo scorso giovedì 8 novembre a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata, introdotta da un keynote speech del noto giornalista e scrittore Alan Friedman, ha visto lo svolgersi di tre tavole rotonde dove esperti del settore si sono confrontati riguardo alle sfide delle char manager 4.0, l'evoluzione del lavoro nel terzo millennio, il Jobs Act e il decreto dignità. La sera ad aprire la cerimonia di premiazione è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e Leadership, come competere in un mondo che cambia. Il dibattito moderato dalla giornalista Deborah Rosciani ha coinvolto esperti che hanno disquisito sulle principali tematiche del settore e le sfide che questo sarà chiamato ad affrontare. Categoria studi legali, diritto del lavoro, andiamo a premiare lo studio legale dell'anno, contrattualistica, relazioni industriali e sindacali. Il premio viene assegnato a Amendolito e Associati per la competenza e la riconosciuta specializzazione accademica in tutte le aree del labor, per la completezza e la concretezza dell'attività svolta in materia di contrattualistica nelle relazioni industriali e sindacali, che ne fanno uno studio tra i principali punti di riferimento del diritto del lavoro nel panorama nazionale. Ed ecco premiato lo studio legale dell'anno, contrattualistica, relazioni industriali e sindacali. A Elefonte Awards lo studio Amendolito e Associati si aggiudica il riconoscimento come studio legale dell'anno, relazioni industriali e sindacali nella contrattualistica. Siamo in presenza del professor Francesco Amendolito, al quale chiedo un commento per questo importante riconoscimento. Siamo molto contenti perché si tratta di un successo legato a un duro lavoro, un lavoro di tanti anni in cui l'intero team labor dello studio, unitamente ad altri dipartimenti, quale quello del diritto societario e diritto internazionale, si è prodigato per dare sempre più qualità e specializzazione alle aziende. Quindi in un'ottica di una boutique abbiamo sempre pensato che l'attenzione alle aziende, all'attenzione alle imprese, allo sviluppo strategico delle aziende per noi fosse molto importante. Quindi questo è un premio che non riguarda soltanto il sottoscritto, ma l'intero staff e tutte le risorse umane del mio studio. Questa mattina qui in Borsa si è tenuto un importante convegno e charformo organizzato dalle fonti. In una delle tavole che si sono svolte proprio in mattinata si è parlato del Jobs Act e del decreto dignità. Io le chiedo un giudizio generale sul passaggio proprio dal Jobs Act al decreto dignità e inoltre anche di recente le ultime modifiche che sono state effettuate nel decreto dignità se queste hanno portato un miglioramento oppure se è trattato di un, secondo il suo giudizio, di un arretramento. Purtroppo il mio giudizio è negativo perché quel piccolo spiraglio, quella piccola luce che aveva dato il Jobs Act alle aziende oggi è stato reso vano da questo colpo d'accetta, colpo d'ascia che il decreto dignità ha dato. Ma questo non per un giudizio politico, perché non è la mia abitudine quello di dare un giudizio politico alle norme, all'evoluzione normativa, ma semplicemente perché è un errore pensare che l'aumento dell'occupazione e quindi il benessere dei lavoratori in Italia sia legato al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si è dimostrato anche dopo il Jobs Act che attraverso una serie di norme che garantivano la flessibilità e comunque i cambiamenti anche all'interno delle aziende, si è dimostrato che tutto sommato un aumento dell'occupazione c'è stata. Io sono sicuro, sono convinto che non serve ritornare al passato, noi dobbiamo guardare avanti cercando di adeguare le norme del lavoro, le norme del diritto sindacale ai cambiamenti che sono in atto. Verso quali modelli di relazioni industriali ci stiamo muovendo? Come sta cambiando il mondo del lavoro nel terzo millennio? Il cambiamento, il mondo cambia, cambia l'economia, cambia anche il rapporto con questa cosiddetta globalizzazione economica dei nostri paesi e quindi anche in questo senso il mondo del lavoro e quindi le norme del lavoro devono adeguarsi a questo cambiamento. Non dobbiamo aver paura del futuro, dobbiamo guardare al futuro per adeguare il nostro sistema normativo che è uno dei migliori sistemi al mondo, è un mio parere ma io ritengo che sia riconosciuto, dobbiamo adeguare il nostro sistema a questo cambiamento e quindi le relazioni industriali, le relazioni sindacali e quindi la contrattazione collettiva può rappresentare un volano in questo senso. È dimostrato che laddove aziende virtuose, sindacati virtuosi hanno lavorato per cercare di adeguare le norme aziendali, quindi parlo della contrattazione collettiva aziendale, alle necessità aziendali, a quello che l'azienda chiedeva per lo sviluppo economico e strategico della stessa azienda, i risultati sono stati positivi. Quindi anche in questo senso le relazioni industriali e quindi la contrattazione collettiva può avere un grandissimo valore. Le faccio un'ultima domanda, quanto è importante il ruolo delle risorse umane nello sviluppo strategico e aziendale? Anche questo è concatenato con quello che dicevo poc'anzi, cioè le risorse umane, oggi si parla di capitale umano, si parla di persone, possono fare moltissimo, quindi fermo restando che si deve garantire ogni tutela, ogni garanzia, la minima garanzia all'interno dei luoghi di lavoro. Le risorse umane oggi rappresentano il motore profulsivo ancora di più di prima e di ieri per lo sviluppo delle nostre aziende, soprattutto italiane. Basta fare un esempio, quindi abbiamo parlato di contrattazione collettiva e di risorse umane insieme. Il welfare aziendale, il wellness aziendale, il benessere aziendale, dati statistici dimostrano che laddove in alcune aziende si è operato attraverso dei contratti collettivi aziendali in cui si è dato molto spazio al welfare aziendale e quindi, io dico al wellness aziendale, mi piace di più questa parola, i risultati sia in termini produttivi che di crescita dell'azienda stessa sono stati altissimi sotto gli occhi di tutti.